Amici dello Zoccolo Duro, ho riunito tutti i fratelli rossoneri qui su YouTube per mandare un messaggio chiaro alla società e alla dirigenza. Subito, subito esonerare Giampaolo, subito. Non aspettiamo più niente ragazzi, qua non giochiamo a calcio, non facciamo un tiro in porta. Indipendentemente dai risultati che sono gravissimi, ma non giochiamo a calcio. Non possiamo attaccarci a 60 minuti col Torino nelle ultime 7 partite, perché contò anche Cesena. Cioè ragazzi, non scherziamo neanche. C'avevano i giocatori e i nuovi non li facevano nemmeno giocare. Se non eravamo noi a protestare non li facevano neanche giocare. Leaule per le tre giornate non ha giocato. Benassero è uguale, anche se ieri ha fatto male. Ma altri giocatori, Rebici non ha ancora toccato il campo. Pionte che non l'ha ancora messo in panchino. Cioè ragazzi, basta, basta, Giampaolo esonerare subito. E poi, e poi, inizio a dire alla dirigenza, da Maldini, Gazzidis, Boban, Scaroni, tutti quelli che ci sono a partire da Elliot, di farsi un esame di coscienza e uno a mettere i propri errori e risolverli. Altrimenti dimissioni. Dimissioni, se uno non è capace a fare qualcosa, deve avere almeno la dignità, la dignità di dimettersi e di lasciare il posto a qualcuno che è capace. A partire dal fondo Elliot, che può tranquillamente vendere a qualcuno che è capace. Perché noi non possiamo stare in questa situazione. Adesso vi lascio anche agli altri fratelli rossoneri che la pensano come me. Avevo contattato anche Total Fred, ma è troppo arrabbiato per fare il video. Staviamo qui con noi Peppe che cresce, Ivan Tantalman e Rasta Alex Restelli. Ciao amici dello giocolo duro, forza Milan sempre. Giampaolo out. Marco Giampaolo ha iniziato come peggio non poteva la sua avventura al Milan. Quattro sconfitte in sei partite, del tanto decantato bel gioco neanche l'ombra e soprattutto un'involuzione spaventosa da parte di tanti calciatori che pare abbiano scordato anche quelle tre, quattro cose che sapevano fare l'anno scorso. Questo però è un disastro che parte da lontano. La società nel momento in cui ha scelto Marco Giampaolo doveva, a parer mio, costruirgli una squadra adatta al suo credo calcistico. A parer mio il Milan è una squadra costruita male che non c'entra proprio nulla con il suo allenatore. Nel momento in cui tu prendi Giampaolo devi vendere Suso, devi vendere Celanoglu, devi vendere Celanoglu perché tu sai che Giampaolo gioca con il 4-3-1-2 e sai che ha bisogno di giocatori che giocano a massimo uno, due tocchi. Cosa che Suso, Celanoglu e Celanoglu non sono palesemente in grado di fare. La società quindi per me è la prima responsabile ma c'è anche da dire che Giampaolo non sta facendo nulla per farsi voler bene, non sta facendo nulla per portare acqua al suo mulino. Un allenatore palesemente in confusione, un allenatore che è palesemente finito in una situazione più grande di lui. L'esonero chiaramente è una soluzione ma a patto che venga preso un allenatore esperto. Il mio sogno è Massimiliano Allegri ma mi andrebbe bene anche Luciano Spalletti. Un saluto allo zoccolo duro e chiaramente a tutti i suoi fan. Partaglio Rosso Neri amici rivali di Youtube, buongiorno a tutti, siamo al giorno dopo di quello scempio che abbiamo visto ieri sera. Mi aggrego all'amico dello zoccolo duro e anche a tutti gli altri amici youtuber che sempre esprimiamo il nostro dolore, nella voce di tutti voi anche. È un video calmo e tranquillo oggi senza insultare nessuno. Noi tifosi oggi chiediamo gentilmente l'esonero immediato di Giampaolo e le dimissioni di tutti i componenti della dirigenza, dal primo all'ultimo, soprattutto di quelli che hanno creato questo calciomercato, che ci hanno portato in questa situazione drammatica. Non vogliamo ricorrere alla violenza perché la violenza non è una cosa giusta. Ieri sono stati fatti i video, comunque potete capirci, magari usando un frasario soprattutto da parte mia sbagliato, ma non ne possiamo più signori. Chiediamo immediatamente le vostre dimissioni di tutti quanti i componenti della dirigenza e in primis dell'allenatore. Non ci sono più alibi, non ci sono più scusanti. Siamo ormai diventati la Barzelletta d'Italia. Noi siamo stufi signori, stiamo male. Noi saremo sempre tifosi del Milan. Voi cambierete la poltrona di qua e di là nei prossimi anni. Noi saremo sempre qui a tifare una nostra squadra, dal nostro amore. Con questo vi saluto, un bacione a tutti quanti e un abbraccio dal vostro Rasta. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, non ne possiamo più. Non ne possiamo più di questi giocatori che non rappresentano realmente il Milan e che davvero a volte non sono all'altezza nemmeno di indossare la maglia rossonera. Non ne possiamo più nemmeno dell'allenatore. Un allenatore che fondamentalmente finora non ha dato nulla e che è stato confermato sì, ma senza nessun valido motivo perché stringiamo e stringiamo, questa squadra non ha certezze. Non sa da che cosa ripartire perché poi, al di là delle difficoltà nei risultati e difficoltà di gioco, sono ancora più preoccupanti. Non creiamo occasioni, non siamo mai pericolosi e soprattutto a volte manca anche quella cattiveria, quella voglia di vincere, quella voglia di uscire dal campo ed aver dato tutto. Giocatori impauriti. È l'allenatore che non riesce a trascinare i giocatori più giovani. Insomma, la squadra è giovane e siamo tutti quanti d'accordo. Ma questo gap, questo problema potrebbe essere risolto con un allenatore con un'esperienza diversa, con un carisma diversa, un motivatore, un qualcosa di diverso che attualmente Giampaolo non ha, non ha in mano la squadra e ci sono giocatori veramente che non sono all'altezza. Musacchio, Suso, lo stesso Cialanoglu che anche ieri ha fatto malissimo, che sì. Ho giocatori che sono lì, che dovrebbero esplodere da un momento all'altro e poi non lo fanno mai, come Calabria. Ma soprattutto, ragazzi, ci sono dei problemi anche in società. La società, la proprietà, dov'è la proprietà? Io non so nemmeno che faccia abbia il nostro presidente. Chi è Scaroni? Scaroni rappresenta, ma parla solo dello stadio. Parla solo dello stadio che, tra l'altro, avremmo dovuto fare da soli e non insieme all'Inter. Gazzidis, altro rappresentante della società, che l'unica cosa che ha saputo fare finora è stata dire, ok, giocatori giovani, no, questo è vecchio, no, Ibrahimovic, no, Fabregas, dobbiamo prendere solo i giovani e aumentare i ricavi. Ma io mi chiedo, in queste condizioni, per come siamo messi adesso, con quante possibilità abbiamo di aumentare i ricavi. Il primo passo sarebbe di tornare in Champions, ma di questo passo io la vedo veramente dura. Quindi dico, basta, non ce la faccio veramente più. Un abbraccio e sempre Forza Milan. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi! Grazie a tutti.